Bella vittoria delle Amaranto che hanno sfidato e battuto le Aquilotte dello Spezia allo stadio comunale Città di Arezzo e restano così al vertice della classifica. All'ottavo Razzolini è appostata sul secondo palo ad aspettare l'assist di Vicchiarello e subito la svolta con un tiro preciso che non lascia scampo a ruotolo. È 1-0 per l'Arezzo. Sempre nel primo tempo le Amaranto vanno vicino al gol numero 2, al diciassettesimo e al ventiseiesimo, ma non finalizzano e si va a riposo sull'1-0. Nella ripresa lo Spezia con Fenigli ci prova ma il tiro finisce fuori dallo specchio. È ancora Vicchiarello a recuperare un buon pallone per Gnisci davanti alla porta delle Liguri ma l'azione finisce con un nulla di fatto. L'Arezzo si mantiene sempre in attacco, c'è la percezione costante che quando le Toscane si trovano in area di rigore c'è sempre il pericolo del gol. E infatti la conclusione arriva al 51esimo ad una manciata di secondi dal fischio finale con il gol numero 2 per le ragazze di Testini firmato da Vicchiarello. Le Amaranto tornano a casa con tre preziosissimi punti.